sto perfetto ci siamo e perché si può risolvere in qualche modo tipo non so finito il gioco non mi ricordo abbiamo incontrato un progrado si abbiamo parlato col tizio bruttissimo con gli occhiali povero tizio non mi ha fatto uscire dallo streaming guai ma perché non succederà a me queste cose vanna c'è la muta mi ha letteralmente cacciato a calci a me invece mi sta costringendo a guardare ti prego ma quest'uomo no ha tre frasi che ripete lui saluta il boss finale mio padre non è indiscusso buonasera siamo già capiti oltre i ragazzi sono 17 mi pare di aver visto ma prima erano di morire verso il settimo ottavo la voce di bambina l'ha tradotto simone bastarda è proprio voce di bambino troppe scritte sullo schermo basta mi stai rubando bicipiti ma che palle quest'uomo aia mamma mia che schivata con istiro ma il vero problema è che ti danno delle sperle che te le ricordi per sempre ok corriamo là perché muori ma porca puttana ma questo mocco che velocissimo che trovata pezzo di merda fortemente non ti ha insegnato niente giorgio per niente per fatto bene c'è nel senso da a vedere la situazione mi sembra che hai fatto una scelta molto ponderata io lo sparare lo sparerai alle spalle lo sparerai ma solo perché un prete non però ma ogni volta che vado a fare questo tipo di approccio fino a merda puoi spararlo per cortesia sparalo sparalo adesso adesso ma si alza col piccolo merdo siamo tutto bene ragazzi non se questa difficoltà va bene per me e che cazzo stai esplorando il pavimento sto esplorando ma troppe bottiglia una bottiglia proiettile amici proiettili ottimo a c'è una porta qui eh no no sono porte aperte in questo gioco mi mi piace con molta paura che mi sto cagando sotto oh rabbia suzzulealo si con l'accetto esatto ragazzi c'è qualcuno c'è per forza qualcuno c'è un uomo morto a terra magari è morto di malinconia come te tra poco ma io morirò di paura tutte le palle di andare lenta corre e si trova uno zombie si si ma quello il gioco a seconda di farmi di fottermi proprio il culo mannazza di merdo un'armeria tre colpi di pistola la pianta super sbrillante e ho preso una foglia questo ma il giardinaggio è una mano da fuoco a tutto il resto con lo scatolo per le pizze dove questo qua il momento che mi alzo mannaggia la puttana ma non mi riparo il nostro campo visivo quindi affrettati a farlo di nuovo entrare nel campo visivo grazie mi cago sotto ma perché perché non può morire in silenzio non è morta ma in che senso oh cristo dio oddio ok è morta dove siamo ragazzi dove siamo andati no ma per un'infermiera era la lobotomia c'è stava in un'armeria sta stronza ha anche un coltello la dole dalle pulizie giorgia ha detto molto carina non molto innovativa quindi oddio io ti dico cosa devi fare ci sono quindi alzare devi girare l'angolo correndo fammi ridare un attimo il tempo di coprirmi gli occhi oddio ma si entrano qualcuno ma sta strisciando sto capendo è proprio alzato simona sconditi dico per il tuo bene a mio ammetti ammetti io hanno nasce in mano stavolta del respiro come se tipo respirare di potesse attirare vi giuro suddio grande la situazione ma vi ragione continui a trattenerlo destra o sinistra ragazzi mi sa che destra c'è lontana se sembro tu sei messo lì non hai fatto niente nonno chi è stato cosa ok no tu sei stato innocente adesso ragazzi che secondo del colpivo è lui quel topo il topo spara dopo spara dopo tazzo tu sei più vivo di me rivederci è un campo minato di zombie che paura giustatissimo grandissima stronza una baltrata che paura ma te ci fico io nello d'armadietto brutta cretina vado raga questo tu devi camminare si muove così strano io vorrei proprio conoscere chi ha animato questi zombie ragazzi vorrei proprio parlarci per una conversazione uno a uno in una stanza dove nessuno può sentire la nostra voce o la sua nello specifico un cos'è quello cosa ho visto da danneggiata perché molto poetico ci sono un bambino o mio dio non volevo è stato preghi zoom nella città vicino c'è un fantasma pure andiamo pieno con le parole fantasma di che tipo come fa fa paura ecco il fantasma che ha fatto la stamina è vergognosa comunque quest'uomo non ce la fa proprio è proprio stanco nella vita puoi mettere la musica no chiesa it is no fra prima mi hai fatto stare malissimo e non non te lo meriti onestamente torna del momento della vendetta bra 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 è fuori sono fortissimo stabbassati sono una merda sei ti stavo facendo uno scherzo è velocissimo quest'uomo se ne sta andando ho deciso che no all'altro mondo se ne sta andando terminate l'arrivo l'altro è palesemente vivo con gli occhi rossi brilluccicosi però non fa niente non si muove proviamo gli sono rimasti gli occhi oddio invece si muove oh mio dio ok sono semplicemente riposando e non fuori bene ragazzi stiamo staccando potete dire qualcosa alla fine addio amici spero di non giocare mai più a questo gioco o meglio di guardarlo cioè spero di guardarlo no e non guardarlo guardarlo bene tagliare passati a a a a s a